Salve a tutti e ben ritrovati con God of War Ragnarok dunque riprendiamo per le sfide del crociolo la seconda parte ci mancano sei sfide per poter prendere il premio allora quella nebbia lì questo non ho scoperto questa ragazzi è la Valkyrie e qui ci andremo verso la fine proprio sfide 1, 2, 3, ce ne sono 4 questa è la spada principale quindi andiamo a farci le nostre tre sfide poi andremo qua e prenderemo il trofeo questa non la faremo la faremo molto ma molto più in là dopodiché devo andare a fare altre cose per poter prendere i trofei quindi adesso vediamo cosa ci aspettano con altre sfide cazzo sono altre 6 no ma la sono già fatte scusa un attimo qua io le ho fatte tutte come cazzo ma non è che aspetta un attimo allora come come sto pensando io quella centra allora allora abbiamo NF EFR Sì da qua si parla Valkyria quindi NF NF FR NR e questo l'abbiamo fatto FN quindi FR che vediamo eh la scelta è tua mentre il tempo limite evita di subire danni mentre il tempo limite come questo schiaffa e vedete le palle che ho capito ma stavo colpendo con luce abbiamo un yanco che , U U U U U U U U U Ora sono il altro. Eh no cazzo, sbagliato, eh guardalo, eh, guarda da dove sei esco, no ma. Ok, ora è pure completato. Trizzoni fumanti. Quindi fammi vedere, eh, FR, come pensavo, andiamo alla R. Questa è la N. Questa è la R, vediamo, ah vedi, uccide, vedi amici, per aumentare una volta del timer, la A3. Preparati! No cazzo, sbagliato. Chi è, mio fratello? Chi è, mio fratello? No cazzo, sbagliato. Questo è difficile. Chi è, mio fratello, sei coperto di Bifrost. Chi è, mio fratello, sei coperto di Bifrost. No, scappate, mi vede più. Mi serve il tempo. E' il mio cazzo. E' il mio cazzo. E' il mio cazzo. E' il mio cazzo. Ok. Ok. Dov'è lo scrigno? E' il mio cazzo. Che cazzo è chiuso? Quindi adesso... NFFR. Dov'è? Eccolo qua. Ed è qua. Vedi? Solo che è una prima. Vediamo se... Con quei cosi che ci ha dato... Armatura. Ti sono fumanti. Niente. Attiglia di dragon. Niente. Residio di tempi arati. Niente. E' che cazzo? E' quindi? Mi segna l'armatura. Roba da pazzo. No vabbè. Ogni volta rompe i coglioni. Fabricabile. Stai da Dio. Sì. Te le fabbrico tutte. Valla a mostrare a tutti. Vediamo se... Mi raccomando sporca la bene di sangue. Vi compro. Stai da Dio. Ah mi segna sempre la cosa. Niente. Ti sono fumanti. Ti sono fumanti. Ti sono fumanti. Ti sono fumanti. Ma parca di quella puttana. Residio da imparati. Residio da imparati. Artiglio di drago. Questo. Cos'è? Un guante del cacciatore. Questo. Questo. Stanno cadendo. Sempre residui. Che stanno scendellando Ah al massimo Al massimo pure questo Uh Un genere di vine Un genere di vine Un'orca di quella Ma che cazzo Mi indichi Sono potenziabili Le lame Potenziabili Quello nostro Che sono luminosi Ok 522 Sì sì 444 443 Arancia Ce l'abbiamo già Guarda qua Troppa vita Ci caccia Se no cazzo Questa Scusi Questo ci toglie troppa forza Fabricabile Pezzi di argento E' attenzione Ardente Per potenziare questo Ci manda ancora la difesa Una fortuna Comunque Ci indica una maria di cose Ma niente da fare Va bene Quindi Adesso Fr Uccidi i nemici Per penetrare Allo scudo Del nemico D'Elite Come lo penetro Oh cazzo Ho capito Ma che caccia 3,4 Dov'è Figlio di Ma vattene a fanculo Sei un codio Nazzi Ah no Prima quelli Che cazzo Dove sei No Ti sopra Ma adesso Che cazzo 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 a sinistra Maledetti pastardi Wow, l'ultimo Sfide finali completate Due di sei, cazzo Ma non è possibile, ce ne mancano Tizioni ardenti, tizioni fumanti Tizioni luminosi, cenere di vino E pezzi di argento Andiamo a vedere che ne devo fare altri quattro Ancora Ah, questo è fatto Questo è fatto Allora, NF E NR Cazzo, NF, NR Dovevo portarmi un secchio d'acqua Ho 20 Così è fabbricabile Ah, leggero, ok Al momento no Braci suprema Pure questo si può potenziare Però Allora, 9 Potenziabile Questa qui ci dà una botta di vita e di fortuna Ci abbassa la forza e difesa Quindi no Braccia Del cacciatore Del drago Ci manca l'artiglio Cazzo Stelle cadente Ci manca ancora uno Io questo del drago devo fare Artiglio Ceneri Centro del cacciatore Sì Ma non mi interessa A me manco questa Manco questa Mi interessa Che sta a posto Gli scudi Vai Ok 440 458 Madonna Se metto questo La difesa è al massimo Praticamente Mamma mia Guarda là Però Ci toglierà L'attacco Questo Fortuna runico Cazzo Però Minchia Mettendo questo Faccio la difesa E per l'attacco Mi servirebbe qualcos'altro Rimarrai A bocca aperta Eeeh Guarda qua Questo qua Devo Andare Mi serve un artiglio Di drago Un artiglio Di drago Così ci aumenta Forza Difesa E me ne avrei Da runico E la fortuna La ricarica Cazzo Trent è Bassissima La ricarica La ricarica Ce l'ho Troppo Bassa Sarebbe questo Qua Che momento La ricarica Che vorremmo abbassare la vita Di pire Mani Niente E va bene Allora Ok Va bene così Niente da fare Allora Abbiamo detto NR N N R N N N R R R R R R I nemici si ritornano dopo ogni danno subito. Lancia le sfere della scuola del regno perché il tempo scada. Si facciamo questo. In arrivo a sinistra! Oh, e dov'è? Ma guarda, due per una! E dov'è? Ma che cazzo è? E non c'era! Ci siamo! Ma ci siamo! Schiaffa! 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 L'ho fatta Non è finita, stiamo pronti Ah già ce n'è ancora Quindici Hai un nemico alle spalle Kratos Dietro di te Un nemico alle spalle 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 Rotola, fratello Un nemico alle spalle Tiene Fatto Andiamo Abbiamo finito qui Sì Ok Chezza ardente Leca luminosa Regeneri Ok Qua l'abbiamo fatto Vediamo quale ci manca adesso Allora La F N F La F E' il tempo limite Di nuovo Questo qua Vai Non sanno cosa vi aspetta Infatti Schiaffa! A sinistra! È esplosivo! Attenso! Schiaffa! Totola, fratello! Non è facile! Chiara! Rapp! E' un'acquire. Ok 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 Ora vediamo cosa ci aspetta qua Scusate Che cavolo Allora Vediamo se ci può potenziare ancora qualcos'altro Dovevo portarmi un secchio d'acqua O venti 2.000 te ne dovevi portare Facciamo un po' di magia Potenziabile Allora Questo qua Questo qua 9 9 Vabbè Vabbè Una braccia Del drago Niente ci manca sempre quello Residui temperati Niente E niente da fare Allora Carca puttana I residui temperati Pure questa cintura del cacciatore No Mi raccomando Sporca la bene di sangue Aumento Aumento danno e distanza Allora ci da la ricarica Ci abbassa la vita Ci da la cosa Niente Arsiglio del drago Arsiglio del drago Potenziabile 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 Niente da fare Ok ciao Poi ci manca N.R 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 Sfida Resta All'interno dell'anello Putti Eccola Z supplied You Voi a fuoco, Kratos! Passerà! Drone, a sinistra! E ho capito, troverà a sinistra! Non è facile per un cazzo qua. A destra! A destra! Oh, Cristo! E perché là c'era il veleno? Non ci potevo andare. Da niente. Oh, io ho capito, c'è una coda. Oh, io ho capito, c'è una coda. Oh, io ho capito, c'è una coda. Oh, io ho capito. 3 di 6. Cazzo, ce ne mancano 3 di queste ancora. Pfff, tizioni, non c'è una divina. Ma porca puttana. E quando cazzo lo prenderò il trofeo io? Armatura a braccio. Braccio, bruciato di Surt. Scusi, ma non ho presa tutta questa armatura di Surt. Allora, N-R. N-R. Vediamo. Dovevo portarmi un secchio d'acqua! Armatura. Ho 20! Potenziabile, potenziabile. E braccia. Nei fianchi, 9, 9, 9, 9. Braccio. Niente, ci manca il residuo di amparati. Uuuuh. Questo qua. Tirato con uno di l'onda. Allora, attenzione fumanti, quello vincolato. Difesa e forse ce l'abbassa. Stessa cosa qua. Buona vita. Parca la troia. Eh, Surt, eccolo qua, Surt. Surt. Valla a mostrare a tutti. Mmhm. Allora, Surt ci toglia la garga for... Eh, io come metto... Me lo metto questo qua, sai? Sai che me lo metto? 4,46, 4,58. Aspetta. 4,45. Oh, 4,45. E' al 9 questo, però... Allora... No. Questa qua... Questa qui è. mi lascia le scheglie di drago. 4,45. Ok. Niente, questo qua è del drago, per forza. va bene. Io mi lascio questo. Rimarrai a bocca aperta. Mi scudi. Niente. Già il 9. E il 9. Va bene così. Lasciamo stare. Ok. Quindi, abbiamo detto che ci manca... N. Eh, secondo me si. Parca la troia. Non dovremmo fare altri. N. R. Quella è la F. Di nuovo qua. Vediamo. Di nuovo. Dopo ogni danno. Subito. Lancia le sferone allo squarcio. Di nuovo. Di nuovo. S. maybe laterci. A. erdotala, fratello. schiampa. Fatto. indemn만. Ok, il primo è andato Allora, buona Uf! Uf! Fiamma! Vosce, stai facendo a fangola! No, che lurda Non ho perso No, che lurda No, che l'ultimo Ok Ok Ok, where's the font? Ok 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 Occhio! Occhio! e non mi rompete l'epasso è morta Ah, guardate Aspetta un attimo che prima l'avevo in matto Aspetta un attimo che prima l'avevo in matto Aspetta un attimo a lui Aspetta un attimo che l'avevo in matto Aspetta un attimo Oh Oh I'm in rear, a sinistra! Pietro, attento! Pietro di te, in arrivo! Pietro, attento! Ci sta capendo niente a più! Figlia di... Figlia di te, in arrivo! Pianco! Alla tua destra! Pianco! No! Hai un nemico alle spalle! Veneto! Vaffanculo! Spara! Quattro di sei! Cazzo! Ce ne mancano due! E mi sa che dovevo fare un'altra registrazione! Porca la troia! Perché siamo a... Nove, dieci, unici, doci, tredici! Ne mancano due! Quindi significa... Altre... Per separanza! Eh, questo è fatto! Questo è fatto! Questo è fatto! Eh, l'hanno fatto tutti! Eh, però no! Per prendere le trovere mancano altre due! E mo' io non lo so che... Come cazzo sarà! Onestamente, ragazzi! Dovevo portarmi un secchio d'acqua! Mmm... O venti! Sì! Sì! Mi abbraccio a nove! Nel drago! Niente! Vabbè! Vabbè! Hai il braccino corto? Sì! Eh... Ragazzi! Onestamente! Vi ripeto! Non ho la più pallida idea! Perché le prove qua al centro sono finite! Un'armatura mi indica! Eh... Me ne mancano due! Si vedi? 13 di 15! Ne mancano due! Eh, ma... Come cazzo si faranno? 1 e 2! Le ho fatte tutte! Le ho fatte tutte! Io le ho fatte tutte qua! Quindi... 1, 2 e 3! Le ho fatte tutte! Le ho fatte tutte! Sono state fatte tutte! Le ho fatte tutte! Onestamente! 1, 2, 3! là c'è la valchiria quindi non c'entro mai è uno, due, tre niente ragazzuoli sono state fatte tutte io non credo che rifacendo mi compare di nuovo una sfida centrale secondo me no non proprio quindi niente io direi di salutarci qua perché poi finisce pure la registrazione quindi non ce la farei lo stesso e farò un ennesimo capito cioè farò un'altra registrazione per poter prendere sto cazzo trofeo maledetto così lo capite pure voi RF segnala aspetta 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 RF c'è una cosa che RF RN qua c'è la valchiria si vede la saluta alla valchiria e niente ragazzi se questi sono illuminati allora c'è RN da fare ed RF ho capito RN e RF e sono altre due quindi va bene così ci si vede